Buongiorno, mi chiamo Vittorio Manfredi e ho 23 anni, ma a 4 avevo già il brevetto. Questa passione è continuata poi negli anni e tra tanti voli acrobatici ho preso una laurea in ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano. Questo mi ha permesso anche di coltivare tante altre passioni, come quella per lo spazio. Qua una foto con Luca Parmitano. Ma veniamo al perché di questa presentazione. Io penso che questo sia un mondo incredibile, ma noi umani abbiamo innescato un processo di distruzione che non riusciamo più a controllare. Per questo motivo penso che siamo noi a dover invertire il processo. Da questo nasce il mio progetto, Project NEST. NEST sta per Native Environment Safety Technology, ovvero tecnologia di salvaguardia dell'ambiente nativo. Si basa su una tecnologia che tutti noi utilizziamo e conosciamo ampiamente, cioè quella dei droni, che vengono utilizzati per tante funzioni, tra quelle ludiche e quelle professionali. Io ho pensato di utilizzarli per uno scopo più puro, cioè purificare l'aria che respiriamo tutti i giorni, in particolare quella di ambienti urbani come la nostra città Milano, che notoriamente è piuttosto inquinata di agenti come monossidi di carbonio, nitride carbonica, ossidi di azoto. Questi droni avrebbero la capacità di dirigersi automaticamente nelle zone più inquinate e depurarle con una tecnologia che non lo sappiamo, ma è già ampiamente utilizzata in tantissime città, ovvero dei tessuti in grado di filtrare l'aria, di sgregare le molecole dannose e crearne di nuove, molto meno dannose o addirittura innocue. Ma non è finita qui, perché i droni poi andrebbero a trasportare queste sostanze rese innocue in quelli che io ho definito nidi, da cui il nome del progetto, NEST, ovvero delle torrette o dei totem sparsi per la città e ricchi di vegetazione, dove questi droni andrebbero a concimare questa vegetazione. Questa non è la guerra dei mondi, sono tutte cose esistenti sulla Terra. Più che altro andrebbero a concimare questa vegetazione e i totem avrebbero anche la funzione di ricaricare i droni e permetterli di tornare in volo in modo totalmente automatizzato. In realtà poi gli utilizzi di questo progetto possono essere infiniti, ovvero immaginate soltanto un'applicazione per il vostro smartphone quando andate a fare una corsa per sapere quali sono le zone meno inquinate della città. In realtà poi, scusatemi, vabbè finita qui. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.